Cari amici, bentrovati su Livitali, questo è Jacopo. Oggi vi faccio un video per la playlist Il Regno Unito fa schifo. Il video di oggi andiamo a leggere una notizia che mi ha girato, mi è stata girata, su TG.com24 titola Scandalo del sangue infetto in Gran Bretagna, oltre 3.000 morti, le autorità sapevano e hanno insabbiato. Alcuni pazienti contrassero l'HIV, altri virus dell'epatito C. Noi particolari scottanti emergono dall'inchiesta che fa luce su come decine di milioni di pazienti si ammalarono negli ospedali britannici. Si ammalarono, ho notato il passato? Ok, ve lo vado a leggere velocemente dalla BBC, vado un attimo a toccare che cos'è successo, capiamo cos'è successo e poi vi faccio due considerazioni mie. Su sito della BBC titola What is the infected blood scandal and will victims get compensation? Quindi che cos'è lo scandalo del sangue infetto e se le vittime verranno compensate, verranno pagate. C'è la foto di un paio di persone con, guardatele eh, con cartelli, proteste, riconoscere le vittime del sangue contaminato. Notate questa qui che c'ha la foto di un defunto, quindi una roba vecchia, passata. Sangue contaminato, sangue contaminato ragazzi. Contaminato da chi? Contaminato perché? Comunque, leggiamo velocemente quello che dice che più di 30.000 persone nel Regno Unito sono state, furono infettate con HIV e hepatite C dopo essere state contaminate da prodotti di sangue, dopo aver ricevuto prodotti di sangue contaminati negli anni 70 e 80. Cioè, fatemi capire, siamo nel 2024 e la grande notizia è che adesso c'è un'inchiesta per andare a esplorare e denunciare e accettare che chi è stato danneggiato dal sistema sanitario pubblico del Regno Unito negli anni 70 e 80, io non ero ancora nato negli anni 80, ci sono nato a metà degli anni 80, quindi questa è la roba più vecchia di me, che sono un boomer, come molti di voi dicono, specialmente vista la barba. Quindi questa roba c'ha più di 45 anni, salta fuori adesso, grande notizia, lo scandalo del sangue infetto. Ok, come sapete io sono obiettivo, io parlo mai dell'Italia e parlo mai del Regno Unito, quando se lo meritano. Quindi, leggiamo, 50 anni fa è stato dato sangue infetto a più di 30.000 persone, molte sono morte, questo è il riassunto, i bambini sono morti, i anziani sono morti, alcuni ci hanno avuto malattie che li hanno rovinati, 2.000 e 4.000 e 5.000 persone hanno sviluppato l'epatite C, che gli avrà causato la cirrosi e il cancro al fegato, e ti fidi di sapere quanti hanno avuto l'epatite C. L'enquiry stima che tra l'80 e i 100 furono inflettati con l'HIV e 27.000 con l'epatite C. In totale 2.900 persone sono morte. Cosa dice questa inquiry? Bla 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 bla... Com'è successo questo scandalo? Quando le autorità hanno saputo del sangue infetto? Probabilmente già lo sapevano. E poi, infine, verranno domanda compensati questi che sono stati danneggiati. Rishi Sunak, in odore di elezioni, dice che farà tutto quello che può per pagare chi è stato danneggiato, seguendo l'advice dall'enquiry, il governo ha fatto pagamenti temporanei di 100.000 sterline a 4.000 delle vittime sopravvissute e alcuni dei parenti che sono sopravvissuti ai morti. Se avete avuto un morto per questa cosa vi hanno fatto un bonifico, avrete ricevuto un bonifico di 100.000 sterline. Quindi verranno rincompensate? Sì, ne hanno già pagate... 4.000 di persone per questo errore sanitario, bene. E ora io dico... Ora io dico... Con i problemi di salute causati da quel trattamento semiobbligatorio che è avvenuto nel 2021 con tutto quello che sta vedendo a galla, che ormai anche i più fanatici, anche quelli che si sono fatti 5 dosi, anche quelli hanno capito. Dobbiamo cercare di spostare l'attenzione su una cosa che è più vecchia di me? Dicendo che, oh, lo scandalo, andiamo a pagargli compensazioni, eccetera. Per carità, va bene. Se hanno sbagliato devono pagare. I problemi nella sanità ci sono in tutti i paesi del mondo. Hanno fatto una cappellata, ok. Mi dispiace. La cremuccia, ok. Ma comoda fare l'enquiry sul sangue infetto nel 2024 quando abbiamo migliaia di persone che muoiono tutte le settimane, tutti i mesi, perché sono andate a farsi... Oh, non si può dire. Eh? Bello, eh? Spostare l'attenzione su quello quando ci sono problemi enormi su cui si fa finta di niente. La cosa maggiore che si può fare è dire che il peraccino a strazene che è stato ritratto dal mercato perché c'erano altri prodotti. Comunque non era un problema. Sì, causa qualche effetto collaterale, però in generale non ci sono problemi. Quindi, bella questa strategia di spostare l'attenzione che, come sempre, i gonzi, i tonti, i ritardati, adesso si fisseranno dicendo guardate nel Regno Unito la sanità fa schifo, guardate che stronzi gli inglesi. Quando dovrebbero invece preoccuparsi di come stanno venendo ammazzati da quello che si sono fatti negli ultimi mesi sia dal governo italiano che da quello inglese, americano, tutti questi criminali. Quindi, al posto di pensare a quello che è stato fatto 50 anni fa, pensate a quello che è stato fatto 4 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa. Cari miei gonzi, ok? Con questo chiudo. Chi vuole capire, capisce. Chi non capisce, come al solito, lo invito ad andare a farsi il richiamino primaverile visto che li fanno ancora. Andate a farvi un'altra dose, perché le varianti sono sempre dietro l'angolo, ok? Buona salute a tutti, ciao!